Siamo arrivati a Quiz Shop, quest'oggi giochiamo con United Color of Benetton Siamo arrivati con Marco che gioca al nostro Quiz per Benetton, andiamo a fare la prima domanda Allora Marco attenzione, nel videogioco Street Fighter, conosci? No, bene perfetto Di che colore è il costume di Ryu? A. Nero, B. Verde a pallini, C. Interamente bianco, D. Rosso oppure E. Blu a righine Attenzione ti diamo tempo per pensare, visto che è una domanda difficile Hai premuto, devi dire anche cosa hai premuto? B B? Sì La B era verde a pallini, purtroppo è sbagliata Aspetta, aspetta, ce n'è altre due insomma, ce n'è altre due, non ti preoccupare, non stai tranquillo La seconda la saprai sicuro perché questo è facile Qual è il pianeta solitamente più vicino alla Terra? Attenzione questa è più carina La A. Plutone No La B. Nettuno No La C. Mercurio No No La D. Giove No Cioè hai guardato Super Quark, una cosa impressionante La E. Venere Quali premi? Venere Io direi la E Hai detto la E, giusto? Giusto, la E Quindi sei una cosa spettacolare Vinci il primo buono Ma adesso andiamo a vedere la terza ed ultima domanda Come si traduce in italiano la parola car? Attenzione, eh Lo sai l'inglese? Pochino Pochino Attenzione la A. Motorino La B. Lavatrice La C. Macchina La D. Motocicletta E la E. Boh, non so Se fai la E ti do il punto, ti prego fai la E Vai Quale schiacci? La C La C. Macchina E il nostro computerone dice giusto E allora vinci il secondo buono Marco vince il secondo buono Da Benetton E allora complimenti a te il buono Che ti permette di acquistare Da Benetton a Montevarchi Siamo con Deborah con l'H o senza H? Con l'H Con l'H finale Quindi Deborah, ah, una cosa spettacolare Andiamo a dire la prima domanda Che ti può permettere di vincere Un buono da Benetton Quale azienda ha creato il personaggio di Super Mario? Attenzione, questa è facile La A. Siga La B. Nintendo La C. Sony La D. Creativa E la E. Team 17 Attenzione Mi devi, aspetta, mi devi anche dire Per gli amici a casa Il, cosa scegli? La B. La B. La B. La B. è Nintendo Giusto, eh? E vinci il primo buono Spendibile da Benetton Ma andiamo con la seconda domanda Ok? Attenzione, questa è più difficile Quanto tempo impiega la Terra Per girare intorno al Sole? Guarda che questa non è facile La A. Non si è misurato con precisione La B. sei mesi La C. 24 ore La D. un anno intero La E. ogni quattro mesi Attenzione Pensa La D. Un anno, penso Aspetta, eh? Perché devo controllare anche io Sì? Sì La D? Sì Il nostro computer ha ricevuto la D? Sì Un anno intero? Cosa dice il computer? Mi sembra No, mi dispiace Mi dispiace Come no? Sì Sì o no? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Il computer sbaglia Sì, brava Vinci il secondo Buono Che non è di 1000 euro Però qualcosa meno Però va bene Ma adesso la terza e l'ultima domanda Che ti può far fare l'unplane Come si chiama l'auto Con cui sfila il Papa? Questa veramente Aspetta Questa veramente è facile Se non sei questa Veramente La A Non ha un nome La B Batmobile Ma come si fa? Scrive certe cose La C Papamobile Anzi La C Papamobile La D Papamobile Attenzione Attenzione con la pulsantiera Vediamo Cosa? La D Devi Dillo più forte D D D Domodossola per esempio Ok Giusto? Giusto Papamobile Allora vinci anche il terzo buono Che ti permette di fare Acquisti Con Uno sconto Da Benetton In via Roma Montevarchi E allora giochiamo con Francesco Il nostro terzo e ultimo concorrente Per quanto riguarda oggi Partiamo con la prima domanda Il simbolo della città di Roma È la lupa Che allatta tre gemelli Vero o falso? Falso Devi prendere Ah scusami La C è falso La E è vero Cosa premi? La C La C Sì Perché secondo te Perché sono due È falso Romo e Remo Bravissimo Guardate che Guarda che Anche la spiegazione Non era facile C'è qui la fidanzata Che è emozionata Per la cultura Del suo fidanzato Quale azienda È stata la creatrice Del videogioco Sonic A Siga D Scusami B di Bologna Nintendo C Capcom Aspetta Aspetta Di EA Sport La E Creativa Attenzione Aspetta Allora Aspetta Hai detto Siga è la Giusto Hai detto? Sì Siga è la Siga è la Attenzione Hai premuto la A Giusto E allora Vinci un buono Ancora superiore Ma adesso è la terza E ultima domanda Puoi vincere il buono Dei buoni Ok Che non è Una cosa Non è male Ai bambini? No Vabbè li farai Dopo questo buono Come si traduce In italiano La parola Windows Windows è facile A Penna B Tenda C Poltrona D Radio E Finestra Premo E Finestra E Finestra Perché Windows È una Finestra E una Finestra Una Finestra Sì Due Ante o Una Anta Che ne so Che ne so Come tu vuoi Sì Quella di varie Giusto E vinci anche Il buono Superiore E anche La terza Domanda È giusta E allora Con Francesco Abbiamo finito Qui Ti becchi il Buono Per quanto riguarda Quiz Shop Noi ci vediamo Domani Noi ci vediamo